Saluto per un attimo, ci ha raggiunto in studio Antonella Nonino, si sta guardando il telegiornale in diretta, fra poco parleremo di quello che succederà sabato, giusto una piccola anticipazione Antonella, siete pronti o no? Ci stiamo preparando, perché stiamo ovviamente sistemando la distilleria che ospiterà la cerimonia di premiazione e siamo felici di poter fare anche la diretta proprio con Telefriuli per poter dare la possibilità di condividere con noi questo momento veramente speciale. I premiati sono già arrivati o sono in arrivo? Sono in arrivo. Allora, la Nonino rimane al mio fianco. Anche quest'anno la famiglia Nonino ha scelto Telefriuli per condividere con il territorio un evento di carattere internazionale, quella è la cerimonia di consegna del premio che porta il nome della famiglia dei distillatori friulani. Sabato 27 gennaio la nostra emittente seguirà in diretta l'edizione 2018 del premio Nonino a partire dalle 12.15. I primi collegamenti in diretta dalle distillerie di Ronchi di Percotto inizieranno alle 11.30 con immagini esclusiva e intervista agli ospiti e ai premiati. Tra l'altro, oltre alla nostra... questa la conosci, cara? Sì, la mamma che sta seguendo tutti gli allestimenti in distilleria, che come vedete è il luogo dove noi distilliamo, peraltro rigorosamente con metodo artigianale, e che ce la stiamo preparando ovviamente per dare il benvenuto a ospiti che arrivano da tutto il mondo. Quest'anno poi avremo questi straordinari anche bartender, giovani, che hanno voglia proprio di... che hanno creato questa organizzazione no profit e che si stanno dedicando all'interno della loro comunità di sensibilizzare su temi che sono attuali e che sono legati ai valori del premio Nonino. Quanti ospiti? Eh, più di 500. Infatti il dispiacere è di non poter aprire ovviamente a tutti coloro che chiedono di essere... di partecipare. Per questo motivo siamo grati a Telefriuli che vorrà seguire in diretta la cerimonia. E poi c'è anche... E sarà possibile anche collegarsi sul sito... Premio. Premio Nonino... premio... Punto grappanonino.it Grazie, grazie. E figurati, figurati. Quindi vi ricordo ancora la diretta di sabato mattina con il premio Nonino. Grazie, grazie. Salutami Giannola. Grazie. E ovviamente anche il papà. Sì, sono tutti in movimento, tutte le sorelle, perché ci occupiamo proprio in prima persona come di fare la grappa così di organizzare il premio e con tutti i nostri collaboratori che in questo periodo sono dedicati completamente all'organizzazione del premio. Grazie Antonella Nonino. Bene, è veramente tutto. Il nostro Pierangelo Butazzoni può lanciare la sigla di chiusura e grazie per aver seguito l'informazione regionale di Telefriuli. Buona serata. Grazie a tutti.